La prima prima volta che ho sentito parlare di Radio Vaticano è stata quando, alzando il citofono, ho sentito la voce del Papa e ho detto, ma che succede qui? Metti una pò qua su. Ma che sto vestendo io? Il medico, l'infermiere infilò l'arco nel braccio, la bambina diventa tutto nero nel braccio. La mia figlia aveva una leucemia linfroplastica acuta che era una malattia terribile per i bambini di quell'età. Diciamo che però c'era una costante. Cioè la leucemia era una costante, nessuno di noi ci aveva fatto. Noi eravamo qui bersagliati e non sapevamo nulla. Facciamo che la morte di nostra figlia sia servita a qualcosa, no? Lottiamo. E' un po' problematico, capisci? Cioè dico, benissimo, io vedo qui che ci sono delle persone morte attorno a te. Allora tu sei la causa della morte. Beh, grazie.